La dottoressa di Carsoli Angela Corpolongo, dirigente della quarta divisione di malattie infettive tropicali all'ospedale Spallanzani di Roma, è salita sulla Diamond Princess in balia del coronavirus. Sulla nave ancorata in Giappone sono stati riscontrati 624 contagi. Il medico è partito appunto alla volta del Giappone per raggiungere quello che al di fuori della Cina, centro dell'epidemia, è attualmente il focolaio più grande di contagio da coronavirus. Dovrà a soccorrere i passeggeri, occuparsi dei test medici e seguendo alla lettera il protocollo previsto con l'obiettivo di riportare a casa i 35 italiani a bordo della Diamond Princess, la dottoressa Corpolongo e Marsicana originaria di Carsoli. Qui aveva frequentato le scuole con il sindaco Velia Lazzaro. Da anni vive a Roma dove lavora come dirigente medico allo Spallanzani nell'unità di malattie infettive. Mi chiamo Simone Cristicchi, sono un cantautore e attore italiano e sono qui per sostenere la candidatura di Volterra come città italiana della cultura. Sta facendo discutere il video messaggio del direttore artistico del TSA Simone Cristicchi. Un video pubblicato dal quotidiano La Nazione ma arrivato direttamente all'Aquila tra le 43 città italiane candidate al titolo di Capitale Italiana della Cultura per il 2021. Il cantautore legato all'Aquila artisticamente e professionalmente ha spiegato il suo sostegno a Volterra attraverso un minuto di messaggio destinato a lunghe ed aspre polemiche, almeno sui social. Il direttore artistico di uno dei centri culturali principali dell'intera regione Abruzzo, quindi inaspettatamente tifa per Volterra nella sfida alla città che otterrà la corona di Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2021. Innovazione e sostenibilità ambientale. Rientra un po' tutto dentro questa grande cornice dell'emergenza climatica, della sostenibilità ambientale, della riconversione energetica, dell'efficientamento. Così il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, ha illustrato le priorità della programmazione comunitaria 2021-2027 aggiungendo che su questi temi l'Abruzzo poi deve dire la sua perché è regione verde d'Europa e quindi abbiamo tutte le caratteristiche per porci come capofile in Europa di progetti di questo tipo. Nei giorni scorsi a Lecce dei Marsi è stata rinvenuta la carcassa di un giovane lupo maschio. Recuperata e trasportata nella sede del parco a Pescasseroli, la carcassa è stata sottoposta ad un esame ispettivo da parte del veterinario, la dottoressa di Pirro, che escludendo la morte per arma da fuoco, laccio o traumi, ha aperto il fascicolo per ipotesi di avvelenamento secondo le procedure codificate dall'apposito decreto del Ministero della Salute. Immediatamente è stata allertata la centrale operativa dei Carabinieri per chiedere l'intervento di un nucleo cinofilo antiveleno. Sono lieto di aver partecipato alla riapertura di chiese, sedi istituzionali, palazzi privati. Quando sono arrivato all'Aquila ho trovato una città inconsistente ripresa che ha tutte le carte regola per un futuro di rinormalizzazione. Così il questore Orazio Danna, nel suo saluto alla città per il vicino avvicendamento con il questore Gennaro Capoluongo, che avverrà all'inizio della prossima settimana. Dirigente generale, il questore Danna, sarà a disposizione della segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza per ulteriori incarichi previsti dalla qualifica o di tipo ministeriale o alla guida di questure che prevedano la figura di dirigente generale, secondo quanto stabilito dalle norme. Le origini della riserva naturale regionale Monte Gensano Alto Gizio e la battaglia della CGL, nel libro di Luigi Piccioni che è stato presentato a Sulmona. Ce ne occuperemo tra poco nella rubrica Il Punto.